ben ritrovati a filo rossonero qui su canale youtube di radio rossonera sempre insieme a carlo pelle gatti ciao carlo un saluto un saluto e buona settimana ieri non ci siamo visti c'è questo mondiale che ci prende ma beatrice sarà l'ultima volta sì sì assolutamente carlo sarà sarà l'ultima volta allora mi riattacco al discorso del del mondiale che di cui tu hai appena parlato perché ha parlato il l'allenatore del portogallo proprio su proprio su leao no interessa esatto dicendo che sta incontrando qualche difficoltà perché ha più libertà nella sua squadra di club eccetera 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 io ti chiedo anzi un ascoltatore ti chiedo carlo ma secondo te ad oggi cosa manca in particolare a leao cosa manca leao allora bea sì adesso mi rendi nervoso al centravanti boffi sì che fra i più grandi centravanti della storia del milano non so se sia fra i primi dieci come marcatori credo di sì credo di sì o undicesimo ma credo nei primi dieci faceva assegnava gol addirittura mi sembra abbia il record di segnare in nove partite consecutive vado molto a memoria non mi sono preparato l'allenatore però a centrocampo aiuta poco ma centrocampo aiuta poco di che continua a fare valanghe di gol e c'è questo problema a volte e io li capisco gli allenatori di conciliare le due esigenze a milano e più allora e che telare era più libero a brush e allora e però l'altro giorno pioli ha detto attenzione perché la svariava qua ci sono dei dettami è la stessa cosa di fernando santos maleao prende va supera gli avversari o fa golo mette in mezzo sì vero non aiuta infatti nel milan chi aiuta e messia se se le me cares non c'è la fascia la e se lui ritiene che allora non lo metta in campo leao non può non è un giocatore di perché gioca per sacrificarsi ma non ricordo che pierino prati andasse dietro ad aiutare quindi quando tu incontri sulla strada della vita all'allenatore che pretenda questo lo lasci via perché glielo dico io a fernando sant se vuoi un certo lavoro fa un solo lavoro di fare gol di dare spettacolo di servire i compagni altri lavori leao non è capace io mi tengo quel leao là tra l'altro c'è stato anche un siparietto tra de champ e mbappé no più o meno simile nell'ultima partita della francia in cui de champ si stava un po lamentando che mbappé non tornava poi alla fine mbappé ti ha deciso la la qualificazione ai quarti io però rispetto le esigenze dei natori ma a volte non li capisco li rispetto ma non li capisco hai parlato di de chetelar e mi rifaccio le parole di pioli perché l'altra sera al club su sky sport l'ha definito un centrocampista un ascoltatore ti chiedo carlo ma secondo te costa un centrocampista è questo che non lo so ma non mi faccio la domanda non la faccio a pioli me la faccio io non so come definirlo io lo definisco trequartista libera era un centrocampista io lo definisco trequartista cioè chiaro che aiuta anche cacà era diverso cacà non aiutava il centrocampo ma svariava di più e quindi e quindi dimmi beatrice quindi no l'interrogativo è secondo te lo vedremo in questo 2023 di nuovo come l'abbiamo visto nella prima parte di stagione o lo vedremo in zone un po più avanzate ma già già nella seconda parte della prima fase della stagione pensavamo che avesse più libertà di non andare più solo botca o brozovic per intender sì però pur non andando solo botca e brozovic il giocatore non so che cosa gli abbia chiesto pioli ma indubbiamente non ha risposto e no infatti speriamo che speriamo che questo 2023 possa iniziare in maniera un po' diversa per per the kettler perché le pressioni ci saranno ovviamente già stamattina ho iniziato a leggere qualche titolo qualche titolo di un certo tipo e quindi sappiamo che sarà sarà così carlo ti chiedono anche il punto su sugli infortunati secondo te qual è il giocatore che rivedremo prima tra i grandi assenti calabria poi se le me cares poi megnan zlatan punto interrogativo secondo come si troverà e messias tra i primi perché era infortunato l'ultima volta e l'ultimo florenzi quindi florenzi sarà è quello che di fatto ha avuto l'infortunio forse più forse più grave quindi dobbiamo aspettare dobbiamo aspettare un altro pochino chiudo chiedendoti dei rinnovi se c'è qualche aggiornamento se c'è qualche novità nessun aggiornamento ho letto che benasser non va adesso a milanello parlavo col milan qualche giorno fa a dubai parleranno facciamogli bocca al lupo nel primo giorno di lavoro di giorgio furlani non so se andrà in dubai e poi magari anche approfondire la questione rinnovi e mi sembra un giorno epocale in questo senso adesso vado mando un bacio mando un bacio a tutti le amiche le amiche e gli amici le amiche che ci stanno ascoltando e un grande abbraccio agli amici che ci stanno ascoltando carlo grazie noi ci vediamo a questo punto la prossima settimana perché questa settimana appunto sappiamo che è sì perché domani domani è sant'ambrose a milano è festa lotto è festa per tutti venerdì appunto ci sarà pelle rossonera in collegamento e noi ci vediamo direttamente lunedì carlo io vi ricordo di attivare la campanella iscriversi al nostro canale seguire ovviamente filo rossonero tutti i giorni della prossima settimana non ricordavo e non credo che siano feste un abbraccio ciao grazie a tutti